ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al villervetta villervetta jumbo star orologio che recentemente è stato ristilizzato ha subito un restyling come si direbbe in campo automobilistico ed è uscito un mese fa or sono cioè proprio veramente recentemente assieme anche a jumbo star cronografo hanno ristilizzato anche quello che fra pochino lo potrò avere per le mani come si può dire questo orologio in questione oggi l'ho già mostrato nel precedente video da giacomo in negozio e infatti mi è stato messo a disposizione proprio da lui dalla gioielleria pasquale domenici di biareggio che è parte l'ufficiale del canale mette a disposizione gli orologi e a voi vi fa un trattamento di favore un simpatico trattamento provate a chiamarli e testerete con mano dicevo questo orologio è stato mostrato in una puntata in negozio come novità e in effetti rappresenta un pochino un passo avanti nella cronologia della specie di jumbo star perché i precedenti modelli erano leggermente differenti questo qua una cassa nuova ridisegnata a uno stile nuovo un calibro nuovo no è anche diciamo altre particolarità che poi vedremo nella panoramica dettagliata i precedenti jumbo star erano da 41 questo per esempio da 40 e devo anche dire che insomma il precedente modello non rientrava tantissimo nei miei gusti infatti non l'ho neppure recensito non ho fatto la panoramica perché era uno aveva la data ad ore 8 a 23 ore 7 ore 8 poi ho preso devo essere onesto avevo portato a casa quelli jumbo star solo tempo edizione colmar quelli che avevano il cinturino fatto in tessuto piumino sono ancora catalogo al di là del cinturino così fatto stile piumino colmar che ci si può passare sopra poi non l'ho recensito perché non mi piaceva la data tra ore 4 e ore 5 non tanto perché era piazzata lì ma proprio perché era piazzata fuori centro cioè era una cosa voluta cioè non è un errore erano tutti fatti così il datario tra ore 4 e ore 5 era fuori centro io ho detto no ma sinceramente un orologio così non mi va non mi piace non lo recensisco e l'ho lasciato indietro ora sono usciti questi nuovi appena li ho visti ho subito capito che qua c'era un passo avanti proprio a livello stilistico di design di idea perché praticamente rispetto a quelli vecchi va a mantenere la bag interna con la corona di regolazione ore 10 che ha il cronografo quindi è veramente mutuato direttamente dal cronografo senza essere una cosa a parte come era prima insomma ho già spoilerato anche troppo come fatto sto orologio ma lo vedrete poi ora nella simpatica la simpatica recensione e poi alla fine faccio no le conclusioni dove metto in evidenza anche qualche punto debole trovato qua e là ma prima di girare la camera io vi mostrerei anche il mio simpaticissimo cartier santos orologio con 39.8 mm di larghezza diciamo mi sembra che siano quelle le misure quadrante blu calibro di manifattura fatto dal gruppo orologio che ci piace tanto perché è di forma è un classico diciamo è iconico senti come suona bene è iconico ci piace questo questa forma così e va bene anche la misura e questo qua è quello più grande possibile e direi che sta quasi bene al polso dai quasi è proprio non voglio però sta bene boh giriamo la camera diamo lo sguardo a questo simpatico vile arvetta e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali verifichiamo nel dettaglio quali sono i risultati restituitici dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 40 mm spessore 10.9 ingombro trasversale al polso 49 mm e interasse ansa da 20 mm misure che ritengo praticamente ideali per qualsiasi tipologia di polso anche se occorre fare alcune considerazioni il lag to lag di 49 che potrebbe sembrare sulla carta eccessivo è in realtà misurato all'apice dell'ansa che essendo acuneo ingombra molto meno di quanto possa sembrare dal freddo numero inoltre occorre aggiungere che essendo molto sottile il profilo della lunetta l'ampiezza del quadrante risulta maggiormente evidente rispetto ad un orologio con ghiera dimensioni che vengono poi coniugate ad uno spessore al di sotto degli 11 mm un risultato notevole che lo rende particolarmente filante al polso ed è proprio grazie all'esigua misura del profilo carur che si è potuto optare per un design compatto i pochi millimetri di spessore vengono infatti spesi quasi esclusivamente per realizzare un solido fianco cassa che poco lascia al resto fondello e vetro zaffero sono in vero realizzati a filo cassa conferendo al profilo una silhouette sottile e dallo stesso tempo corpulenta in linea con l'intenzione semi professionale di un orologio con ghiera interna l'insieme di queste peculiarità ci riporta ad un'architettura generale che vede anse leggermente ricurve verso il basso e sfaccettate all'estremità mentre dalla vista superiore si può comprendere come si distacchino dalla cassa creando quella canonica piega acuta propedeutica ad uno sviluppo longitudinale oblungo apprezzo poi la finitura generale spazzolata che vede l'unico punto lucido nelle quattro smussature di separazione presenti sulle anse l'opacità la fa da padrona anche sulle due superfici della lunetta laddove solitamente la parete verticale viene lucidata per contrastare l'effetto predominante sulla cassa ciò che però contraddistingue fortemente l'aspetto della testa è il posizionamento delle due corone ad ore 10 e ad ore 3 questa scelta punta a voler diversificare il design rispetto ai soliti orologi con due corone quelli impropriamente definiti come super compressor che presentano le corone ad ore 2 e 4 precisiamo subito che sono entrambe a vite questo è un piccolo valore aggiunto che valorizza ancora di più il dato dei 100 metri di impermeabilità dichiarata ovviamente la corona ad ore 3 svolge le tipiche funzioni di settaggio mentre quella ad ore 10 che è deputata a far ruotare la bag interna qui troviamo una soluzione insolita ossia è a 120 scatti ed unidirezionale in senso orario a livello funzionale il senso di rotazione inverso rispetto alla ghiera di un diver è ininfluente lo sforzo e il tempo impiegato per raggiungere la sfera minuti dipende dalla posizione di quest'ultima ed in entrambi i casi ci saranno posizioni favorevoli o sfavorevoli ciò che invece non comprendo è il perché non sia stata progettata bidirezionale e libera da scatti si avrebbe avuto la comodità di poterla ruotare in entrambi i versi senza il rischio di muoverla accidentalmente vista la sicurezza aggiuntiva del bloccaggio tramite corona vite poco male questa è la soluzione scelta l'unico vantaggio dei 120 scatti è che si ha la possibilità di suddividere maggiormente il tempo da monitorare tempo che è riportato sia sulla bag interna inclinata che sull'anello bianco sul bordo interno del quadrante un bel contrasto cromatico che diventa anche contrasto di lavorazione in quanto il color ruggine sulla ghiera girevole e a spazzolatura concentrica mentre sul fondo quadrante e a finitura soleil quel particolare effetto visivo che riesce a rispondere in maniera sempre differente alle diverse angolazioni della luce nonostante questi sprazi di brillantezza la leggibilità è sempre ottimale in quanto il forte contrasto tra gli accenti chiari e il fondo quadrante è bene evidente ed efficace un quadrante che gioca con la tridimensionalità ottenuta sia grazie alla ghiera interna leggermente sollevata sia grazie agli indici rodeati applicati in rilievo l'insieme particolarmente apprezzabile e la collocazione degli elementi sul dial specie il datario segue una palese filosofia mirata all'equilibrio se infatti la cassa intende spezzare la monotonia del già visto utilizzando corone asimmetriche all'interno si cerca di controbilanciare il tutto puntando su di un design più armonioso armonia che si evidenzia anche in assenza di luce nel momento in cui gli elementi che ci restituiscono la luminescenza necessaria sono quelli prima descritti ottima resa anche se il triangolino sulla ghiera non raggiunge la stessa durata nel tempo che hanno gli indici e le sfere non ho ancora menzionato il motore dell'orologio e occorre farlo in quanto gli si può attribuire gran parte del merito dell'esiguo spessore generale si tratta del jupere g100 calibro swiss made realizzato sulla base del già ottimo miota 90 39 un movimento di fornitura che ultimamente ha preso piede e che sta venendo utilizzato da sempre più case siano esse brands emergenti o affermati i suoi punti di forza intrinsechi sono lo spessore esiguo e la qualità dell'architettura mentre il valore aggiunto è dato dalle modifiche apportate e dal controllo di qualità by la jupere non rimane che parlare del bracciale un design simile jubilee ma con maglie più fitte segmentate e con i due segmenti centrali che risultano lucidati a specchio una scelta volta a riprendere il lucido dei biselli anse e che non crea problemi di sorta in quanto la superficie lucida è alquanto ridotta ed è difficile che metterà in mostra eventuali graffi superficiali di certo c'è che l'ergonomia è garantita appunto dalla flessibilità del bracciale stesso che grazie alla segmentazione sopra citata riesce ad avvolgere alla perfezione il polso a livello tecnico occorre segnalare due feature di pregio ossia le spring bars a sgancio rapido sempre utili e risolutive e i perni a vite che tengono in sede le maglie mentre di poco pregio sono le finiture della cerniera interna voglio dire le superfici grandi sono ben spazzolate ma sul lato del taglio appaiono prive di lavorazione come se si vedessero ancora le striature del taglio stesso così come il segmento di congiunzione bracciale che non risulta essere né spazzolato né lucidato ma semplicemente di un grigio rugoso poco consono alle finiture globali dell'orologio possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali eh sì diciamo che la finitura laterale della chiusura della cerniera lascia un po' il tempo che trova eh un pochino grezzotta così come questo pezzettino qua finale tutto grigio non lavorato insomma è una piccola caduta di stile che l'orologio non si merita nel senso che quando fai fare il bracciale dal fornitore lo controlli e gli dici oh ma no lo voglio anche qua io ho lavorato voglio anche quelli ai lati perché noi appassionati stiamo attenti a tutto poi voglio dire una volta che è chiuso eh non lo sai più com'è fatta eh lateralmente però è un po' come mettere la polvere sotto al tappeto per non farla vedere no vabbè un piccolo punto di ebole secondo voi può essere questo come solamente i due forellini eh alla clasp per la regolazione due forellini cioè puoi andare avanti o indietro di tre millimetri quattro cinque quanto sono cinque millimetri veramente poco per ottenere una regolazione ottimale no da una stagione all'altra o anche nella stessa giornata nell'arco della stessa giornata può cambiare anche la circonferenza del polso qua bisogna agire solamente sulle maglie che sono piccole quindi sono un tipo giubili sono però ogni volta star a togliere e mettere sto a togliere e mettere anche se sono a perno eh con la vite eh che fa sempre piacere quello è un botto di qualità in più avere i perni a vite però i perni a vite con la regolazione un po' scarsetta così anche no cioè manca sempre uno per fare 31 diciamo così però è comodo eh molto comodo questo tipo di bracciale qua poi eh un altro punto che potrebbe essere debole ma che in realtà secondo me non lo è è la ghiera unidirezionale no la bag interna cioè gira solamente in un verso poi c'è un cricchetto che la blocca clic si blocca non va in senso inverso non serve farla unidirezionale se è nascosta dentro il vetro è bloccata perché colpi non ne prende quindi la comodità di averla che può girare a destra e a sinistra è maggiore rispetto alla sicurezza di unidirezionale poi voglio dire chi lo usa chi la usa la bag interna nessuno però insomma così per concetto per principio direi che quella lì sarebbe una cosa poi invece un punto debole che vuole dire che poi mi diventa anche punto positivo un punto debole per tutta in generale Villervetta è che cambia calibro spesso cioè si passa da ETA Sellita Soprod Landeron adesso le Geperet cioè secondo me anche per dare un'identità ad un marchio l'ideale sarebbe quello di avere un fornitore unico per i calibri no mi servo da quello utilizzo quello li conosco a memoria anche per l'assistenza fare fare salti a destra a sinistra dico per Villervetta io non lo so poi come funziona in realtà è insomma un po' di identità scegliere un calibro calibro che in questo caso è il G100 di la Geperet Swiss made conosciutissimo fatto benissimo forse è una delle scelte migliori possibili diciamo di sì calibro buono dicevo il design con bug interna è un punto positivo perché non vado a somigliare a nessuno no siamo abituati con la ghiera girevole interna a due corone ad ore 2 2 ore 4 il classico Longin Legend Diver il classico super compresso il Gigi Lecoutre Polaris non mi veniva a mente tutti fatti così questo ha la corona per la regolazione della ghiera interna ad ore 10 esattamente come il cronografo l'hanno ripreso da lì quindi abbiamo anche una continuità stilistica tra il cronografo che poi uscirà quello nuovo a breve e il solo tempo quindi promossa questa idea del design nuovo così come lo spessore che è veramente sottile 10.9 mm e poi il design generale la qualità generale delle lavorazioni a decisione del del lato della class è tutto è tutto positivo tutto tutto perfetto un'altra cosa le corone che sono avvite entrambe positivo qua non si intruppano come mi è capitato un paio di volte con altri orologi qua vanno alla perfezione si avvitano si svitano potete farlo cento volte che non si intruppano il termine tecnico è quella lì eccolo lì poi la leggibilità la vedete è ottima perché c'è l'antiriflesso non ho detto nella c'è l'antiriflesso che favorisce la leggibilità che di per sé è già elevata come non ho parlato del fondello che ragazzi qua c'è un bel fondello chiuso finalmente che non ci fa vedere il calibro che potrebbe anche essere visto visto che è un legger per fatto bene però è un bel fondello con in basso rilievo il logo di villa ervetta con le varie iconografie della casa qua ci piace il fondello chiuso ci piace insomma a differenza del per esempio del precedente jumbo star no quello colmar col piumino e gne 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 questo qua è sicuramente più attraente proprio anche come a livello di colore di quadrante ora io ho preso il ruggine il tabacco arrugginito per dare un colpo di vita no al mio canale perché se non avrei preso quello blu scuro che a me piacciono i colori sobri no colori blu scuro che era il negozio mi piace proprio quei colori blu giallino bianco che mi ricordano villa ervetta questo qua è qualcosa di più moderno accattivante perché questo tabacco arrugginito con la finitura soleil è bello a vedersi è proprio bello a vedersi però io preferisco le cose più sobri lo sapete che sono elegante fine e simpatico affabile ragazzi io ora detto questo detto tutto 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 sì ho detto tutto e quindi non mi resta che dirvi l'orologio è lì se vi piace lo comprate se non vi piace non lo comprate io gli ingredienti ve li ho messi sul piatto voi li assaggiate tutti insieme e poi decidete avete la testolina per decidere da soli no io vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo semplicemente gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love